Clic! Ben ritrovati i miei cari avventori dell'Ugiona Bar Calcio. Questa mattina parliamo di calcio mercato, raccontiamo quali sono le novità sul fronte acquisti e anche su quelle cessioni. Prima però di iniziare i miei carissimi avventori, vi rammento, tasto rosso, clic, iscriviti al canale dell'Ugiona Bar Calcio. Condividilo, condividilo sui social, spammalo ovunque, fai sapere dell'esistenza di tale luogo dove si palla di Bulagna Football Club 24 ore su 24 e lascia sempre il tuo mi piacino ai video dell'Ugiona Bar Calcio. Allora, situazione calcio mercato. Sono a chiamare i pericicari, in che senso? Partiamo dicendo che anche la trattativa che avevamo dato, come ormai per fatta e avevamo già portato in scooter in Belgio il nostro caro Stefano Densville, sta avendo una sorta di rallentamento poiché la dirigenza memore della cagata fatta con Mattia Bani dopo averlo ceduto in maniera leggera al Genova senza avere in mano il sostituto, hanno detto aspetta bene che prima di fare la stessa cagata con anche Densville, pur essendo un paracarro, ok? Però insomma aspettiamo di vedere, di ottenere la firma di un sostituto, perché va bene essere incompetenti però mio caro Valtera, mio caro Riccardo, c'è un limite a tutto. Voi che cosa dite? Perché dopo se incominciate a vendermi Bani, incominciate a vendermi Densville, poi in un moto di allegria magari vi vendete pure Tomiasu e vostra sorella, poi dovete spiegare voi chi mandare in campo, va bene? Perché poi non so brisa io qui la situazione come va messa. Ok, detta questa, quindi Densville in stand by, in uscita. In entrata si sta ovviamente, ci si sta capiccollando per cercare appunto questo difensore centrale per dare poi il ben servito a Densville e sembra che con tutta probabilità il nome individuato come prima opzione come già abbiamo raccontato nei giorni scorsi è Inculo. Inculo rappresenta per il Bologna diciamo la summa delle caratteristiche ideali che dovrebbe rivestire il difensore che si va cercando ossia qualcuno che si può prendere con costi decisamente accessibili poiché si parlerebbe se tutto va come deve andare e di un prestito con poi un possibile diritto di riscatto, ok, per la prossima stagione. E non paghi sempre volgendo in casa Torino, sembra che il Bologna conosca una società nel mondo, è il Torino perché praticamente attinge come giocatori nuovi solamente in quel serbatoio lì, tra un po' il nuovo Bologna sarà il Torino di due anni fa ma vabbè chiusa parentesi e sembra che il Bologna voglia risolvere anche il problema dell'attacco appunto pescando dalla società Granata e l'uomo individuato ovviamente non è Belotti ma neanche da menzionare o mai l'ho fatto ma vabbè, è Simone Zazza. Simone Zazza che ha 29 anni, ok, e recita il suo score totale in Serie A e quindi lasciando stare campionati stranieri, campionati di serie minore, in Serie A lui ha giocato in tutto 148 partite 36 reti, cioè è un gol ogni 4 partite. Se poi andiamo più nel fino e andiamo a visionare il post-Sassuolo, cioè da quando Zazza si trasferisce alla Juve dopo aver fatto la mitica stagione del 2014-2015 al Sassuolo dove fa 11 reti in 31 partite e tale stagione rimane il suo fiore all'acchiello, quindi la sua stagione migliore è un 31 partite con 11 reti dopodiché dalla stagione 2015-2016 andrà la Juve e dalla stagione 2015-2016 lui totalizzerà in tutto in Serie A 79 presenze, 16 reti, che è una media di un gol ogni 5 partite. Quindi questo è il bomberone che il Bulagna ha la bava alla bocca di avere per risolvere il problema dell'attacco quindi se non altro ogni 5 partite, facciamo ogni 4 partite e mezza, una palla dentro Zazza la potrebbe anche battere e badate bene di non fargli battere i rigori, e badate bene di non fargli battere i rigori perché io voglio ancora ricordare agli europei che cosa combinò Simone Zazza con la sua arroganza con la sua bella rincorsetta, ok? Quindi lasciamo stare il capitolo rigori perché non è neanche lui un rigorista a quanto pare e al mio modo di vedere, io non ce la faccio, a me non è esalta, a me sinceramente andare a prendere dei paracarri che hanno già dato il meglio della loro carriera e che sono in evidente discesa prendi gli inglesi, prendi Zazza, mamma mia ragazzi, mamma mia c'è da piangere ma io mi dico, ma porca miseria, ma il famoso software di cui si narra che il mio caro avventore Lusf ha detto, guarda che Bigon ha un software aggiornatissimo con migliaia e migliaia, adesso forse esagero, centinaia e centinaia di decine e decine unità e unità di calciatori sopra questo software Secondo me sai come si chiama questo software, i miei cari avventori? Si chiama Football Manager Secondo me Bigon passa tutto il giorno a giocare a Football Manager perché altrimenti non si spiega questa pochezza di idee Questa non è non avere soldi, attenzione, questo vuol dire non sapere dove guardare perché quando tu mi riesci a partorire come nomi inglese, Zazza e compagnie contante, pellegri quanto vuol dire che tu il mercato non conosci giocatori cioè il mondo è pieno di giocatori miei dirigenti, il mondo è pieno di giocatori Porca di quella vacca, vi dovete andare a infognare sui soliti nomi, ritriti che nessuno è lì, che cercano tutte le società che ce li hanno, questi qui di sbolognarli via e per l'appunto trovano il Bologna che è lì con la bava alla bocca per forza abbiamo la bava alla bocca abbiamo mezzo attaccante a giocare in attacco poi c'ha 39 anni la cosa assurda sapete qual è? che porca miseria Zazza si arriva è anche un plus nel senso che tra avere Zazza e non avere Zazza è meglio avere Zazza perché siamo messi talmente male siamo messi talmente con le pezze al culo che a questo punto quasi qualsiasi giocatore potrebbe fare all'occorrenza del Bologna cioè siamo arrivati a questo punto quando uno dice eh ma lo prendiamo solamente se alza il tasso tecnico della squadra ah praticamente qui mi vai a prendere chiunque la qualunque alza il tasso tecnico della squadra in attacco per il semplice motivo che non abbiamo alternative cioè noi un attaccante non ce l'abbiamo perlomeno sano ne avremo uno che si chiama Federico Santander ma è rotto secondo me è talmente rotto che questa stagione l'ha già salutata perché ha avuto un'infortunia abbastanza grave per cui possiamo dire in maniera serena che non abbiamo punte se non vogliamo considerare i giocatori della primavera però ragazzi cioè rendiamoci conto che la situazione è veramente veramente assurda e pone tanti quesiti sopra sopra la dirigenza che sembrano veramente essere lì che non si sa cosa stiano guardando io mi chiedo cosa stiano facendo non lo so non lo so guardate io non ho anche paura a conoscere la verità a questo punto quindi cosa vi devo dire? speriamo speriamo che in culo lo metta Zaza e che Zaza vada in culo insomma avete capito che in culo e Zaza possono venire a Bulagna a questo punto perché per due bruscolini però per due bruscolini perché se devono venire questi generi di giocatori dopo li dobbiamo anche pagare che ne so per i discatti 15 milioni anche no perché altrimenti è anche una pigliata per il culo a questo punto quando potremmo andare a volgere altrove con giocatori in ascesa i nostri i nostri i nostri carrelli degli acquisti ragazzi c'è veramente dello scoramento qui a Lugiona Barcaccio sappiatelo che adesso mi darò a quelle belle signorine laggiù mi darò a quelle belle signorine laggiù che almeno ci divertiamo un pochetto miei cari avventori vi consiglio di fare altrettanto attivate campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati dei nuovi video che escono qui su Lugiona Barcaccio poiché vi ricordo che oggi pomeriggio ci sarà la conferenza pre-match di Bologna Udinese di Sinis e Mijalovic e qui l'andremo a commentare quindi rimanete sempre attivi aggiornati e noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar e noi ci sentiamo Grazie a tutti.